Chekhov, in mare Il piroscofo, principe Amneto, sfrecciava a tutto vapore. Si era da poco staccato dalla riva. Si vedevano soltanto le luci del porto che andavano sfumando e il cielo di nerofumo. Soffiava un vento freddo, umido. Ci sferzava i visi come una frusta e penetrava attraverso i nostri giubbotti di pelo. Aspettavamo la pioggia ed eravamo meravigliati perché da molto tempo non si faceva vedere. Sentivamo sopra di noi le nubi cariche, sentivamo il loro desiderio di prorompere in pioggia e ci sentivamo soffocare al dispetto del vento e del freddo. Il principe Amneto ondeggiava da tutte le parti come una scialuppa di piccolo cabotaggio. Si vedeva il riflesso dei nostri fanali colorati sulla schiuma delle onde che raggiungevano il ponte del piroscafo. Noi marinai, accalcati a poppa, gettavamo le sorti. Sotto l'urlo del vento e lo scricchio lìo del principe Amneto si faceva largo la sonora risata ubriaca dei lavoratori del mare. Le parole, una più disgustosa dell'altra, prendevano il volo dalle nostre labbra e il vento le portava nell'abisso nero. Al vento piacevano queste parole. Non ci gettava in mare, al contrario, ridacchiava insieme a noi. Tutti noi tremavamo. Un leggero tremito correva dalla nuca fino ai calcagni, proprio come se nella nostra nuca ci fosse un foro nei quale scorrevano giù per il corpo nudo pallini finissimi, freddi. Tremavamo, ma non per il freddo. Per l'uomo abituato all'acqua, così come per il pesce, non esistono il freddo e l'umidità. Se gli sembra di aver freddo, può bere dell'alcol. Tremavamo, ma non per la paura. Il mare mosso e l'oscurità non fanno paura. Tremavamo per tutt'altre ragioni. L'uomo in generale è un gran pervertito, ma il marinaio è più pervertito dell'uomo. Anzi, il marinaio è addirittura più pervertito dell'animale, che è soggetto all'istinto. E non è una falsità. Per l'uomo, che in ogni momento può cascare dall'albero maestro o scomparire per sempre sotto un'onda spaventosa, che conosce Dio solo quando affoga o vola con la testa all'ingiù, non ha senso evitare la perversione. Noi beviamo la vodka, perché non sappiamo a cosa possa servirci la sobrietà e cediamo alla perversione perché in mare la virtù è più noiosa della bonaccia. Gettammo le sorti e tremammo nell'attesa dolce e tormentosa. Eravamo in tutto diciotto. Di questi diciotto, a due, poteva capitare in sorte la felicità. Sta di fatto che nella notte qui descritta la cabina per gli sposi novelli, che si trovava sul principe Amleto, aveva dei passeggeri e che nelle pareti di questa cabina c'erano solo due fori a nostra completa disposizione. Uno dei fori l'avevo ritagliato io stesso con le mie mani per mezzo di una sega fine come la seta dopo aver trapanato la parete con un succhiello da marinaio. L'altro invece l'aveva ritagliato col coltello un mio compagno, poi ucciso da un fulmine. Io ci avevo messo esattamente dieci giorni nell'operazione. Il mio compagno quindici. Uno dei fori è toccato a te. A chi? Cento dita grosse e callose, indicarono me. E l'altro a chi? A tuo padre. Mio padre, un vecchio marinaio gobbo, col viso macerato nello spirito, mi si avvicinò e mi dette una manata sulla spalla. Oggi, ragazzazzo, noi siamo i fortunati, mi disse, storcendo in un sorriso la bocca sdentata e muscolosa. Sai una cosa, ragazzaccio? Io credo che quando abbiamo gettato le sorti, tua mamma, cioè mia moglie, pregava per noi dall'altro mondo. Ah 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 ah! Mia mamma, è bene che tu la lasci stare, replicai. Il corpo di mio padre era attraversato da uno spasmo. Batteva in pazienza un piede e chiedeva l'ora. Erano soltanto le undici. Allora abbramata mancava un'eternità. Per abbreviare il tempo ci sedemmo a bere. Noi beviamo vodka come se fosse acqua. Nel caso strano, la natura si prende gioco di noi. A causa della vodka, i nostri muscoli si fanno più forti e più sodi, mentre le pulsioni non trattenute non ci indeboliscono. Al contrario, ci trasformano in tigri. Cominciò a piovere. Mi mise a fumare la pipa e a guardare il mare. Era scuro, ma devo supporre che i miei occhi ribollissero di sangue. Sullo sfondo nero della notte distinguevo le immagini nebulose di quello che era stato l'oggetto del nostro sorteggio. Ti amo, sospirai, allargando le braccia verso l'oscurità. Il verbo amare lo conoscevo dai libri ammucchiati in una credenza sopra la cucetta più alta. A mezzanotte passai vicino alla porta della sala comune e diedi un'occhiata. Lo sposo, un giovane pastore dalla bella capigliatura bionda, stava seduto al tavolo e teneva in mano il Vangelo. Egli spiegava qualcosa a un inglese alta e magra. La sposina, giovane e prestante come l'albero di una nave, stava seduta accanto al marito e non levava gli occhi dalla sua testa bionda. Non spetta a me che sono un marinaio descrivere il suo volto. Mi sembrava che non fosse di questa terra. Un banchiere inglese, grande, grosso e vecchio, con un viso rubizzo e antipatico, andava avanti e indietro da un angolo all'altro della sala. Era il marito della lady, con la quale discorreva di qualcosa di evangelico il novello sposo. I pastori hanno la brutta abitudine di conversare per ore intere, pensai, strappandomi i capelli per la disperazione. Non avrebbe finito prima dell'alba. A luna mi si avvicinò mio padre e tirandomi per la manica bagnata bofonchiò. E ora sono usciti dalla sala comune. Volai come un fulmine giù per la ripida scaletta e mi diressi verso la famosa parete. Tra questa parete e quella della nave c'era un'intercapedine piena di fuligine, di acqua e ratti. Presto sentii i pesanti passi del mio vecchio padre. Inciampò in un contenitore di cherosene e snocciolò una bestemmia. Trovai a tentoni la mia apertura e ne tirai fuori un pezzetto quadrato di legno che avevo segate con un'arte che mi avrebbe potuto invidiare un intagliatore professionista. Tolto il pezzetto vidi una mussolina sottile e trasparente attraverso la quale, come da una prigione, veniva una flebile luce rosa. Insieme alla luce giungeva al mio viso accallato il profumo frastornante di una camera da letto aristocratica. Per vedere la camera da letto correva a scostare la mussolina con due dita, ciò che mi affrettai a fare. E vidi una quantità di velluto, piume e merletti. Tutto era avvolto da quella luce rosa, narcotizzante, che fuoriusciva da una lampada bronzia di grande valore. A un sazeng e mezzo del mio volto c'era il letto. «Lasciami guardare dal tuo foro», disse mio padre spingendomi su un fianco con impazienza. «Dal tuo si vede meglio». «Va al diavolo!» «Tu, ragazzazzo, hai gli occhi migliori dei miei e per te è proprio lo stesso guardare da lontano o da vicino», aggiunse mio padre spingendomi da parte e graffiando sulla parete. Io alzai il braccio e colpì mio padre alla nuca. Lui barcollò e andò al suo foro. Mio padre aveva una certa stima del mio pugno. La sposina sedeva sull'orlo del letto i piccoli piedi che pendevano su una pelliccia di tigre. Guardava fisso a terra e con le piccole dita tremanti tirava un merletto. Davanti a lei stava in piedi il suo marito, il giovane pastore. Le diceva qualcosa, ma cosa esattamente non so. L'urlo del vento e il rumore del principe Amleto mi impediva di sentire le sue parole. Parlava in maniera accalorata, gesticolando con le mani gli occhi che scintillavano. Lei ascoltava e scuoteva la testa in segno di diniego. «Parleranno fino a domattina? Che il diavolo se li porti!» borbottò mio padre. Premetti ancora più forte il mio petto alla parete come temendo che il cuore che batteva rumorosamente saltasse fuori. La mia testa erdeva come un fuoco. «Avrei sputato al pastore attraverso il foro se il mio sputo fosse stato mortale!» Gli spogini parlarono a lungo. Infine il pastore si mise in ginocchio e, protendendo le mani verso di lei, cominciò a pregarla. Lei scosse la testa in segno di diniego. Allora lui balzò in piedi e cominciò a camminare per la camera da letto. Dall'espressione del suo volto e dal gesticolare delle mani indovinai che la minacciava. La spugina si alzò, si avvicinò lentamente alla nostra parete e si fermò proprio accanto al mio foro. Si tormentava le mani mentre io me la divoravo con gli occhi. Leggevo sul suo viso se solo un marinaio rozzo e insensibile è capace di leggere su di un volto dalla pelle fine come una ragnatela. Sul suo volto erano iscritti disperazione e inesprimibile tormento e allo stesso tempo indecisione. Stava decidendo. Rimanemmo per dieci minuti faccia a faccia. Io la guardavo ed ero felice ma la felicità non è eterna. Si scostò e fece un cenno con la testa al suo pastore. Quello sorrise tutto felice. Le baciò la mano e uscì dalla camera da letto. Sentì un rumore accanto a me. Era il mio vecchio padre che graffiava sulla parete. Il suo vecchio cuore batteva all'impazzata dietro la gobba. La sposina cominciò rapidamente a svestirsi. Dopo tre minuti la porta si aprì e il pastore entrò nella camera da letto accompagnato dall'inglese alto e corpulento di cui ho già parlato. L'inglese si avvicinò a letto e domandò qualcosa alla bella. Quella fattasi di porpora dalla vergogna chinò la testa in segno di assenso. Il figlio di Albione tirò fuori dalla tasca un pacchetto di biglietti di banca e li dette al pastore. Lui li contò e uscì con un inchino. Il vecchio inglese chiuse la porta dietro di lui. Io come se fossi stato morsicato saltai lontano dal mio foro. Io che non temevo le onde più alte e l'oscurità in cui compaiono i folletti delle acque ebbi paura. Mi pareva che il vento avesse fatto in cento pezzi il principe Amleto. Il mio vecchio padre temprato da mille tempeste e perversioni mi prese per un braccio e mi disse andiamocene di qui non devi vedere di queste cose sai ancora un ragazzo. Il vecchio pervertito barcollò. Io lo sospinsi per la scaletta ripida e storta sopra coperta dove già cominciava un'autentica tempesta autunnale. per la scaletta. Il vecchio pervertito è un'autentica che si tratta di un'autentica di un'autentica di un'autentica di un'autentica Grazie a tutti.